Nuovo appuntamento con l'informa lavoro a cura dei centri per l'impiego della provincia di pavia ben ritrovati vediamo insieme quali sono gli annunci di questa settimana partiamo dal centro per l'impiego di pavia in piazza italia 5 telefono 0382 597410 la mail pavia e formalavoro.pv.it per tutte le informazioni cercasi saldatore luogo di lavoro carbonara al ticino offerta valida fino al 31 12 cercasi meccanico riparatore d'auto luogo di lavoro marzano offerta valida fino al 31 12 conducente di autobus luogo di lavoro pavia offerta valida fino al 31 12 addetto a servizio di vigilanza luogo di lavoro vellezzo bellini offerta valida fino al 31 12 elettricista luogo di lavoro san martino siccomario offerta valida fino al 31 12 idraulico luogo di lavoro san martino siccomario offerta valida fino al 31 12 apprendista impiegato amministrativo e manifestativa luogo di lavoro pavia offerta valida fino al 31 12 elettricisti civili industriali luogo di lavoro corte olone genzone offerta valida fino al 31 12 impiegato amministrativo amministrativa luogo di lavoro giussago offerta valida fino al 31 12 giuntista tira fili di cavi elettrici luogo di lavoro pavia offerta valida fino al 31 12 assistente tecnico geometra luogo di lavoro pavia offerta valida fino al 31-12. Autista e scavatorista, luogo di lavoro Pavia, offerta valida fino al 31-12. Tirocinio geometra, luogo di lavoro Pavia, offerta valida fino al 31-12. Aiuto posatore infissi, luogo di lavoro Pavia, offerta valida fino al 31-12. Elettricisti e impianti civili industriali fotovoltaici, luogo di lavoro Pavia, offerta valida fino al 31-12. Impiegata, impiegato ha detto paghe e contributi, luogo di lavoro Pavia, offerta valida fino al 31-12. Geometra di cantiere, luogo di lavoro Pavia, offerta valida fino al 31-12. Impiegato contabile e commercialista, luogo di lavoro Pavia, offerta valida fino al 31-12. Segretaria, segretario ha detto contabilità, luogo di lavoro San Genese Uniti, offerta valida fino al 31-12. Apprendista e installatore impianti, luogo di lavoro Santa Cristina e Bissonno, offerta valida fino al 31-12. Ferraio disinfestazione, luogo di lavoro Pavia, offerta valida fino al 31-12. Siamo ora agli annunci del Centro per l'impiego di Vigevano, in via Boldrini 1, telefono 0381 70290, la mail è vigevano.it. Cercasi tornitore, luogo di lavoro Cilavegna, offerta valida fino al 30-12. Cercasi prestatore CNC, luogo di lavoro Vigevano, offerta valida fino al 31-12. Cercasi manovale Dile, luogo di lavoro Mede, offerta valida fino al 31-12. Cercasi addetto ai servizi di vigilanza, luogo di lavoro Vigevano, offerta valida fino al 20-12. Educatore, luogo di lavoro Vigevano, offerta valida fino al 31-12. Tirocinio carellista di magazzino, luogo di lavoro Gropello Cairolio, offerta valida fino al 31-12. Autista patente C, luogo di lavoro Milano, offerta valida fino al 31-12. Infermiere professionale, luogo di lavoro San Nazaro, offerta valida fino al 31-12. Asa, luogo di lavoro San Nazaro, offerta valida fino al 31-12. Elettricista civile industriale, luogo di lavoro Cerveno, offerta valida fino al 30-12. Addetto al marketing, luogo di lavoro Romentino, offerta valida fino al 30-12. Impiegato ufficio logistica, luogo di lavoro Gropello Cairolio, offerta valida fino al 31-12. Addetto lavorazione Pelle, luogo di lavoro Vigevano, offerta valida fino al 31-12. Riparatore d'auto, luogo di lavoro Vigevano, offerta valida fino al 31-12. Impiegato tecnico, luogo di lavoro Vigevano, offerta valida fino al 31-12. Meccanico auto, luogo di lavoro Lomello, offerta valida fino al 31-12. Elettricista, luogo di lavoro Lomello, offerta valida fino al 31-12. Tubista, luogo di lavoro Lomello, offerta valida fino al 31-12. Tiroccinio addetto al marketing, luogo di lavoro Parona, offerta valida fino al 31 gennaio. Ha detto vendita, luogo di lavoro Vigevano, offerta valida fino al 31-12 Operaio generico metalmeccanico, luogo di lavoro Robbio, offerta valida fino al 31-12 Apprendista magazziniere, luogo di lavoro Vigevano, offerta valida fino al 31-12 Tecnico elettronico, luogo di lavoro Gambolò, offerta valida fino al 31-12 Tecnico meccanico, luogo di lavoro Gambolò, offerta valida fino al 31-12 Addetto pulizie, luogo di lavoro vigevano, offerta valida fino al 31-12 Orlatrice, luogo di lavoro vigevano, offerta valida fino al 31-12 Guarnitore di calzature, luogo di lavoro vigevano, offerta valida fino al 31-12 Finitore di calzature, luogo di lavoro vigevano, offerta valida fino al 31-12 Tornitore CNC, luogo di lavoro vigevano, offerta valida fino al 31-12 Siamo ora agli annunci del Centro per l'impiego di Voghera in via del Popolo 42 Telefono 0383 644 527, mail voghera.pv.it Cercasi operaio edile qualificato apprendista, luogo di lavoro bronio, offerta valida fino al 31-12 Addetta assistenza domiciliare anziani, luogo di lavoro oltre Popa Vese, offerta valida fino al 31 gennaio Tecnico manutentore elettromeccanico, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 31 gennaio Apprendista Customer Care con funzione amministrativa, luogo di lavoro bronio, offerta valida fino al 31-12 Tirocinio Customer Care con funzione amministrativa, luogo di lavoro bronio, offerta valida fino al 31-12 Magaziniere commesso, luogo di lavoro Codevillo, offerta valida fino al 31-12 Escavatorista, luogo di lavoro Santa Giuletto, offerta valida fino al 30-12 Infermiere professionale, luogo di lavoro Rivanazzano Terme, offerta valida fino al 30-12 Tecnico commerciale settore fotovoltaico, luogo di lavoro Torricella Verzato, offerta valida fino al 30-12 Indiegato tecnico commerciale o tirocinante, luogo di lavoro Casteggio, offerta valida fino al 30-12 Tirocinante aiuto elettricista, luogo di lavoro Lunga Villa, offerta valida fino al 15 gennaio Elettricista industriale civile, luogo di lavoro Lunga Villa, offerta valida fino al 15 gennaio Tecnico assistenza e installazione in pianti di spillatura e bevande, luogo di lavoro Alessandri, offerta valida fino al 30-12 Addetto conduzione e manutenzione in pianti industriali, luogo di lavoro Mezzana Bigli, offerta valida fino al 31-12 Assemblatore e posatore infissi, luogo di lavoro Torrazza Costa, offerta valida fino al 30-12 Promoter, luogo di lavoro Montebello della Battaglia, offerta valida fino al 30-12 Addetto ai servizi di vigilanza non armata, luogo di lavoro Stradello, offerta valida fino al 30-12 Addetto ai servizi di vigilanza armata, luogo di lavoro Piacenza, offerta valida fino al 30-12 Ossa, luogo di lavoro Godiasco, offerta valida fino al 30-12 Asa, luogo di lavoro Godiasco, offerta valida fino al 30-12 Asa, luogo di lavoro Ponte Nizza, offerta valida fino al 30-12 Operaio Ragnista Mulettista Cernita Metalli, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30-12 Operaio Agricolo Campania e Cantina, luogo di lavoro Fortunago, offerta valida fino al 30-12 Personali di sala, accoglienze e servizio al tavolo, luogo di lavoro Portunago, offerta valida fino al 30-12 In Bianchino, luogo di lavoro Godiasco, offerta valida fino al 30-12 Elettriciste e impianti civili, luogo di lavoro San Martino Siccomario, offerta valida fino al 30-12 Idraulico, luogo di lavoro San Martino Siccomario, offerta valida fino al 30-12 Saldatori Carpentieri, luogo di lavoro Casa e Gerolo, offerta valida fino al 30-12 Cavlatore esperto apprendista, luogo di lavoro Barbianello, offerta valida fino al 30-12 Tirocinante idraulico muratore, luogo di lavoro Silvano Pietro, offerta valida fino al 31-12 Contabile esperta esperto, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 31-12 Educatore professionale, luogo di lavoro Godiasco, Salice Terme, offerta valida fino al 31 gennaio Manovali Edili, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30-12 Muratori, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30-12 Addetti a servizi di pulizia, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30-12 Addetti alla logistica di magazzino, luogo di lavoro Stradella, offerta valida fino al 30-12 Addetti a caricamento, manutenzione e distributori automatici, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30-12 Educatrici per assistenza domiciliare ai minori, luogo di lavoro Voghera, posiziano e cortiolone, offerta valida fino al 31-12 Operaio addetto piccole manutenzioni, luogo di lavoro provincia di Pavia e di Milano, offerta valida fino al 31-12 Apprendista posatore di serramenti, luogo di lavoro campo spinoso, offerta valida fino al 30-12 Elettricisti, civili industriali o fotovoltaico, luogo di lavoro Nord Italia e estero, offerta valida fino al 30-12 Idraulici, luogo di lavoro Nord Italia e estero, offerta valida fino al 30-12 Maestre d'asilo, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30-12 Montatore di mobili esperto, luogo di lavoro bronio, offerta valida fino al 31-12 Elettromeccanico, luogo di lavoro Codevilla, offerta valida fino al 31-12 Apprendista elettromeccanico, luogo di lavoro Codevilla, offerta valida fino al 31-12 Addetto utilizzo carrello elevatore, luogo di lavoro Groppello-Cairolio, offerta valida fino al 31-12 Muratore qualificato, luogo di lavoro Stradella, offerta valida fino al 31-12 Impiegato ufficio logistica, luogo di lavoro Groppello-Cairolio, offerta valida fino al 31-12 Impiegato addetto contabilità, luogo di lavoro Bocchiero, offerta valida fino al 31-12 Tiroccini, impiegato magazzino, luogo di lavoro Ribanazzano-Terme, offerta valida fino al 31-12 Operatore su strado in alternativa autista patente B-E o C-E, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 31-12 Impiegato di magazzino, luogo di lavoro Codevilla, offerta valida fino al 31-12 Magazziniere, assistenza a cantiere e posa finestre, luogo di lavoro Tortona, offerta valida fino al 31-12 Aiutante Salumaio, luogo di lavoro Canneto-Paveso, offerta valida fino al 31-12 Addetta addetto alla pulizia e sanificazione, luogo di lavoro Bosnasco, offerta valida fino al 31-12 Impiegata, impiegato presso CAF Patronato, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30-12 Autista scuola, bus, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30-12 Addetti alle pulizie, luogo di lavoro Robescala, offerta valida fino al 31-12 Elettricisti civili industriali fotovoltaico, luogo di lavoro Bavia, offerta valida fino al 31-12 Tecnico commerciale e junior sales manager, luogo di lavoro Rivanazzano Terme, offerta valida fino al 31-12 Tecnico informatico senior, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 31-12 Addetta alle pulizie, luogo di lavoro Voghera, offerta valida 31-12 Elettromeccanico qualificato, luogo di lavoro Tortona, offerta valida fino al 31-12 Carpentieri saldatori, luogo di lavoro Bronio, offerta valida fino al 31-12 Addetta alle pulizie, luogo di lavoro Rivanazzano Terme, offerta valida fino al 30-12 Questi gli annunci che riguardano la provincia di Pavia e i centri per l'impiego della provincia Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del Forma Lavoro Grazie per essere stati con noi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.